L'emergenza della indisponibilità sufficiente di loculi al cimitero di Sciacca è uno dei temi che da anni interessa la cittadinanza. Il Comune adesso sta tentando di correre ai ripari rispetto ad una condizione che si è fatta via via molto complicata. Volge a termine infatti il procedimento di assegnazione delle aree cimiteriali destinate alla costruzione di tombe, sarcofaghi, edicole funerarie, cappelle private di famiglia e strutture cimiteriali realizzate da enti e sodalizi. Il settore patrimonio coordinato dal dirigente Michele Todoro sta procedendo a convocare gli eventi diritto secondo la graduatoria stilata dagli stessi uffici a seguito dell'ultimo bando. Sono 254 le istanze presentate. L'intenzione degli uffici del Comune di Sciacca è quella di procedere per fasi per l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria e l'assegnazione formale. La data fissata è quella dell'8 ottobre alle ore 11 in Sala Blasco dove ci sarà un primo incontro. Saranno convocati i cittadini che sono arrivati in posizione utile e in graduatoria per l'ottenimento in concessione di aree per la costruzione di cappelle private di famiglia. Sono 22 quelle che potranno essere assegnate. Poi ci sarà la convocazione dei richiedenti degli altri dispositivi. Ma la questione della mancanza di loculi in numero sufficiente da anni impone al Comune di Sciacca di requisire quelli a disposizione dei circoli e delle confraternite. Requisizioni che hanno validità temporanea ma alle quali eppure non succede per come dovrebbe la revoca e la rostituzione. Ne scaturiscono anche ricorsi in sede giurisdizionale. Uno di questi ha visto il Tribunale di Sciacca già disporre la restituzione al circolo ricreativo sportivo Seccenze assistito per l'occasione dall'avvocato Stefano Scaduto del foro di Sciacca di 39 loculi cimiteriali requisiti dal Comune con ordinanze risalenti al 1994 e al 1997. Un'ordinanza che non è stata ancora eseguita malgrado sia trascorso un mese e mezzo dal precetto firmato dal giudice del Tribunale di Sciacca Filippo Marasà. L'avvocato Scaduto parla di inadempimento molto grave che potrebbe culminare minaccia con una denuncia per inosservanza dolosa del provvedimento giudiziale. Quest'ordinanza potrebbe a cascata generarne altre perché le requisizioni hanno riguardato tutti i sodelizi e il rischio e la paralesi delle tumulazioni al cimitero. Ecco dunque spiegata la necessità di dover correre ai ripari. L'obiettivo immediato del Comune è quello di recuperare almeno un centinaio di loculi subito. Dopodiché bisognerà programmare anche un piano dell'estumulazione delle salme oltre 99 anni per liberare altri posti. Un tema, quello della durata della concessione a 99 anni, chiede tempo al centro dell'attenzione visto che sono diversi i comuni italiani che hanno avuto il coraggio di abbassare questa soglia. Grazie.